E' importante il lavoro che si sta mettendo in campo e anche stamattina abbiamo al Comune un'iniziativa, l'abbiamo spesso discusso in comitato. C'è una rete forte in città per prevenire e impedire fenomeni di violenza. Devo dire che c'è un'attenzione massima da parte di tutti, il che non significa che non accadano, quindi bisogna recuperare sempre di più ogni spazio della nostra città, la vivibilità e la sicurezza. Questo è un compito primario delle forze di polizia che devono ancora di più rafforzare il controllo del territorio in tutte le aree, fanno un lavoro enorme con una coperta corta, ma è compito anche di tutti fare sempre di più e fare rete. Quindi ovviamente la nostra è sempre un'attenzione particolare di chi è vittima e le vittime continuano a essere a Napoli come altrove spesso le persone più fragili, le persone più deboli e quindi i bambini e anche i ragazzi.